Ci avete mai provato a fare la crostata di carne nella frigirica d'aria? Facciamola insieme! Mettiamo in uno stampo rotondo una sfoglia di pasta brisé. Mettiamoci dentro l'impasto di carne e quando sarà pronto togliamolo dalla teglia. Adesso non ci resta che applicare le striscioline. Cuociamo 15 minuti 180 gradi. È pronta! Ma che bontà!